Se finora non ci sono state domeniche scontate, figuriamoci di qui in avanti con il campionato che entra nella fase decisiva. Tra recuperi e provvedimenti di giustizia sportiva, pure questa settimana ha proposto spunti particolarmente interessanti. Il Rimini stavolta non ha toppato l'appuntamento, ha violato in scioltezza Boiano, condannando i molisani alla matematica retrocessione, e si è portato a meno uno dal duo di testa. L'altra notizia del momento riguarda proprio il big match di domenica prossima, tra Teramo e Rimini, che si giocherà sì a porte chiuse, ma al comunale di Pianodaccio e non in campo neutro, per il parziale accoglimento da parte della Commissione di Giustizia Sportiva del ricorso presentato dalla società Prutina. Bisogna però vedere come le due squadre arriveranno allo scontro diretto. I terramani sono impegnati ad Agnone, tutto tranne che una passeggiata. Dopo il successo sul Fossombrone nel recupero di giovedì e i tre punti restituiti dal CONI, i molisani sono tornati prepotentemente in corsa per la salvezza diretta. A Mazzalorso conta di riproporre Scartozzi e Borrelli. Senza l'apporto dei due, il Teramo ha palesato limiti impressionanti di gioco. Indispensabile tornare al successo. Ma non sarà facile nemmeno per il Rimini, di scena a Miglianico, squadra che ha appena fermato proprio il Teramo. Mister Colavitto sembra recuperare Capitanciarrocca per la difesa, ancora indisponibile l'attaccante Sparaccio. E tra le due blasonate litiganti, chi potrebbe continuare ad approfittarne è il Sant'Arcangelo, che ospita il Leccesenatico. L'unico derby abruzzese mette di fronte Sant'Egidiese e Canistro. Per i vibratiani, squalificati Storani e Perra, è l'ultima chiamata o quasi per rientrare nel discorso play-off. La serie utile di sei turni ha invece permesso ai rovetani di risollevarsi in classifica, ma guai ad abbassare la guardia, la situazione in coda è tutt'altro che definita. Ai play-off ambisce anche l'angolana, che attende la visita di un Fossombrone capace di vincere una sola volta nelle ultime 24 giornate. Amaolo è preoccupato per i forfetti Mariani, Becce e Parmigiani, ma può disporre di cammarata per la prima linea. Rosa al completo nella tessa Valdisangro, che viaggia alla volta di Rimini, Spondarealla. Atletico Trivento Forlì, Boiano San Benedettese, Iesina Civitanovese, Recanatese Venafro e Sant'Arcangelo Cesenatico completano il programma della 32esima.